Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Gian Natasio. Traffico regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. In A12 controllo della velocità attivo tra Colle Salvetti e la barriera di Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra Firenze, Impruneta e San Casciano Nord in direzione Siena. E' chiusa l'uscita di Colle Valdelsa Sud in direzione Firenze per lavori. Sul raccordo Siena-Bettolle corsia chiusa per lavori tra il bivio per Armaiolo, Rapolano Terme e Colonna del Grillo in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia fino al 15 marzo, tratto chiuso per il Carnevale tra l'incrocio Viareggio di Ramazione Lucca-Viareggio e Pietrasanta in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!